Sonia Bagarolo, Padova, ho 53 anni, donna e quella creatura meravigliosa che può generare la vita, madre apprensiva, moglie più amorosa, amica fedele. Sa amare, sa sorridere sempre, soprattutto nei momenti tristi, si sa rialzare anche dopo una violenza subita. Sa affrontare la vita con ogni sua difficoltà senza arrendersi mai, esile, fragile, sensibile, si sa mettere in gioco in ogni situazione nonostante i percorsi difficili della vita, donna, amore. Grazie